Ciao a tutti, da Marco Domeniconi il vostro consulente musicale preferito. Oggi giocheremo un gioco, ora vi darò le istruzioni. Il primo che indovina tutti i luoghi di provenienza, grazie al dialetto e alla musica che ho inserito sotto, vincerà un disco in vinile a sua scelta, massimo valore 30 euro, il secondo un cd, 20 euro, e il terzo un duudi da 15 euro. Quindi il vincitore sarà ottenere tutti i luoghi di un valore gratuito di 30 euro, il secondo vincitore cd, 20 euro, e il terzo cd, 15 euro, 10 euro. Visto che non possiamo muoverci con il corpo più di tanto, viaggeremo con la mente, con lo spirito, come volete interpretarlo voi meglio. Poi torniamo per l'ora di pranzo, quindi dovete provare la vostra traccia, la vostra navigazione, dicendomi il luogo di provenienza. Vincita il migliore. Vincita il migliore. Vincita il migliore. Visto che non possiamo spostarci fisicamente, lo faremo in altro modo. Buon divertimento! ah, sarà molto difficile vincere tutto perché ho trovato dei paesi e delle canzoni impossibili tre anni di lavoro tre anni di lavoro per questo show sarà difficile per il primo vinto ma magari il secondo o il terzo forse il secondo o il terzo vi ricordo che i risultati dovranno essere spediti a questa mail soundom.yahoo.it vi faccio lo spelling S come Savona, O come Oslo, U come Udine, N come Napoli, D come Doborossola, O come Oslo, M come Milano e come impoli.yahoo.it oppure Whatsapp 335 60 84 770 Spero di piacere a questo gioco buon divertimento, have fun everybody, ciao! All right cominciamo con il primo brano Prima Nazione, vediamo chi indovina questo gioco speciale è solo una nazione, quindi è più facile delle altre potete tagliare la canzone quindi riuscire a trovare la nazione direzione sui di sanno e sanno sui di sanno o che Shazam, se non mi chassar sui di sanno sui di sanno sui di sanno canndaki teyze uykusuz aşık sana da günaydın teldeki givercin yalıdaki çapkın da baygın facilissimo se usate sounddown o şazamma canndaki teyze uykusuz aşık stessa nazione proviamo ogni sabah önemli bir konuk marco dominiconi bugün bizimle Marco Domeniconi trafondante Sicilienne Musique Baudour Veramente facile, ve lo faccio 3-4 volte Adımını duydum ama dönmedim Söylenecek sözler vardı Duymadım Let's see, let's see Sessizlik çok şey an Very easy to guess this one Laf kalmadı, kapıyı çarptın Sei per ogni stessa nazione Gitsin, durmadım elinde Şarkılar çalarken her yerinde Kafam boş, belki de bomboş ama önemi yok Zaten herkes sarhoş Gitsin, durmadım elinde Şarkılar çalarken her yerinde Kafam boş, belki de bomboş ama önemi yok Zaten herkes sarhoş Adımı duydum, adımını duydum ama dönmedim Söylenecek kelimeler vardı, duymadım E ölmedim, gidip gitmemekle Gidip git gitmemek, gidip gitmemek arasında gittim geldim Çizgimi bozmadan tane tane anlattım Dinlettim sandım, taa ki kolumdan tuttu nereye diye Sistem ediklerimi bile söyledim Artık laf kalmadı, kapıyı çarptın Kula elinde kaldım Marco Domenikoni tarafından seçilen müzik budur Marco Domenikoni sizi her gün yeni musical masralara götürüyor Vediamo chi ha indovinato questa nazione Sizi her gün yeni musical masralara götürüyor Marco Domenikoni sizi her gün yeni musical masralara götürüyor Ringraziamo Daniela che madrelingua è nata in questa nazione Non vi dico quale Marco Domenikoni sizi her gün yeni musical masralara götürüyor Che ci ha dato la voce, amica di Laura Grazie Laura per verci Marco Domenikoni sizi her gün yeni musical masralara götürüyor Indicato Daniela che parla benissimo il turco Ops Mi è scappata